Alla richiesta del controllore di mostrare il biglietto del bus, un passeggero ha reagito aggredendo senza motivo l'addetto di ASF Autoline. Gli ha sferrato un calcio al petto e lo ha insultato. È intervenuta la polizia e l'uomo è stato denunciato. Il violento episodio è avvenuto nel pomeriggio di ieri attorno alle 17.30 sull'autobus della linea 6 diretto a Maslianico. All'altezza di piazza Cavour, il controllore, un 47enne, ha chiesto al passeggero, un uomo di 64 anni, residente a Tavernola, dimostragli il biglietto. Alla richiesta del controllore, che non ha fatto altro che il suo lavoro, il passeggero ha reagito insultandolo e sferrandogli un calcio al petto. Il conducente ha fermato l'autobus ed è partita la chiamata al numero unico di emergenza 112. In piazza Cavour è intervenuta un'ambulanza della Croce Azzurra. Dopo le prime cure, il controllore non ha voluto essere trasportato in ospedale. Sono arrivati gli agenti della volante della Polizia di Stato di Como e il passeggero è stato portato in questura. Al termine degli accertamenti, il 64enne è stato denunciato a piede libero per lesioni e per il possesso ingiustificato di oggetti atti a offendere. Nel suo zaino gli agenti hanno trovato infatti un grosso cacciavite. Solo pochi giorni fa, sabato scorso, un autista di ASF Autoline era stato aggredito e picchiato da un passeggero sul lungo lago a Como. In quel caso il conducente era stato trasportato al pronto soccorso del Valduce per accertamenti.